E' tornato a sferragliare tra mare e colline il treno storico della linea subappenninica italica in una iniziativa voluta dall'assessorato alle infrastrutture della regione Marche di Francesco Baldelli, giunta alla terza edizione. Un viaggio nel tempo tra Ancone e Pergola che lo scorso anno ha trasportato migliaia di passeggeri e turisti provenienti non solo da tutta Italia ma anche dall'estero a visitare città, borghi, paesaggi e musei, oltre che a degustare le eccellenze no gastronomiche delle Marche. Si tratta di un ripristino di tratta ferroviaria antica in un viaggio a bordo di carrozze anni 30. Sabato la corsa inaugurale a cui hanno partecipato 300 passeggeri, compresi i gruppi dall'Umbria e dall'Abruzzo, con visita ai musei della miniera di Zolfo di Cabernardi a Sassoferrato e dei bronzi dorati a Pergola, oltre che a degustazioni in treno e soste in alcuni ristoranti. La ferrovia subappennina italica registrato per la regione Marche è un grande successo anche perché ogni corsa di questa ferrovia registra sempre il sold out con almeno 300 persone a bordo su questo treno proveniente da tutta Italia. Quest'anno faremo 30 corse, abbiamo già prenotazioni dal Trentino, dalla Val d'Aosta, dal Piemonte, che ci fa ben sperare.